Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo comprato tutte queste Hot Wheels. Oggi siamo qui per farvene vedere. Iniziamo! Qua abbiamo una bellissima Ferrari, l'avete vista? Sì, questa è bellissima perché ha vinto tantissime gare. Però ha fatto molti scontri. Infatti è tutta ammaccata. Questa è la bellissima Jeep dei militari. Guardate com'è bella con tutti i segni. Sì, perfetto. Sempre della Hot Wheels. Poi c'è questa qua che è lunatica. Ed è lunatica. Praticamente va nella luna. Eh, sì. Vola nello spazio ed è bellissima. E quando sei sopra la luna, non se ne vola, però resta sempre a terra. E questa è la sua funzionalità. Poi abbiamo questa macchina d'epoca. Guardate com'è bella. Con questa cerchione dietro. È una ruota in verità. Questa qua è ricambio di una ruota. Bellissima questa ruota. Ok. Poi abbiamo... Questa lasciamo la per dopo. Abbiamo la rara. No, no, dopo le lasciamo. La per il video. Poi abbiamo questa qua un po' ammaccata che però... Questa è fatta apposta ad essere ammaccata. È fatta apposta ad essere ammaccata perché... Guardate, fate uno scherzo. Dite... Oh no, si è rotta la macchinina. La mettete così, tutta ammaccata. Poi... E la rimettete così. Bellissima. Ok. Poi andiamo veloce perché adesso abbiamo quest'unica macchina di Cars. Domani ve le faremo rivedere un altro video bellissimo. Guardate, con il numero 117. Porterò la mia pista e porterò di nuovo queste macchinine. Così poi faremo vedere... Farò vedere tutte le macchinine che vanno in pista, ok? Adesso vi faremo vedere anche tutto quest'altre. E alla fine c'è una grande sorpresa. Poi abbiamo l'amfibio che ha tante funzionalità che però poi non possiamo dirle tutte se no finisce il tempo. Comunque l'amfibio va a mettere le rotte nell'acqua e corre sulla terra. Comunque tutte queste caratteristiche... Guardate questa com'è bella. È un'auto... È un'auto inglese. Ha un'auto meccanica. Tipo... Guardate, prendiamo la Ferrari. La facciamo così e poi lei la porta in un garage. Perfetto. Poi... C'è anche quest'altra auto bellissima. Guardate quanti raggi ha propulsori. No, in verità... I raggi ha propulsori. Ha solo il motore... Ne ha quattro. Fortissima. Solo che l'abbiamo trovata con le ruote a sventolo. Che non va dritta. No, ma sono così. Eh. Per girare, guarda. Per sgommare. Bellissima anche questa. Poi ci sta anche un'altra auto della Hot Wheels. Guardate. Edizione Halloween. Questa qua è una fattolina a zucca tagliata. Poi ha le ossa di uno scheletro. Queste palline fanno uscire il fumo. Ha un grosso cervello sopra la testa. Poi ha il simbolo di uno scheletro. Ha le ruote grigie alle strisce. Scusateci per l'intruzione. Scusateci perché vogliono una cosa per noi. Capito? Comunque, iniziamo. Abbiamo quest'autoscuola. Che pure quanto corre, apre i denti. Gnom 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 gnom. Aspetta, fallo andare più lentamente. Faccio più lentamente. Guardate, si aprono i denti. Quando va più veloce si aprono più... Cioè, si aprono meglio. Allora, questa qua. Comunque, avevamo questa. E poi vi faccio vedere. Forse la ti apre i denti, così. Poi, abbiamo anche questa macchina. Così, guardate. Sempre tema... Guardate. Sì. Sempre tema acqua. Perché? Cosa fa questa? Questa qua. Questa qua. Qua dietro. Così va in acqua. Questa qua serve protea in acqua. Questa qua... Da qua esce il fuoco che la fa sbricciare sulla terra. Perfetto. Ora vi faremo vedere... Poi è... No, no, no. Questa è questa. No, questa è questa. No, questa è qua. Poi abbiamo le edizioni limitate. Guardate, facciamo la sfilata. Tadadà. Tantadà. Guardate come sono belle. Cioè, pochissime al mondo ce le hanno queste. Guardate. Devo stare di fortuna... No. Ehm... Sbagliato. È sbagliato. Perché solo noi abbiamo queste macchine. No, qualche altro. Perché anche altri le hanno trovate. E hanno fatto dei video. Guardate. Come sono belle. Tutta d'oro. Questa. E questa qua è dei militari. Questa è macchina. Ha un posto per un militare. Per un militare chiamato George Washington. Ma che sta dicendo? Vabbè, mi sto zitto. Bravo. Questo è proprio scemo. Allora. Questa è una macchina. Guardate. C'è il segno dello squalo. E poi ha uno squalo. È uno squalo. Ha la stella di un militare. Dei militari. Più dietro. Daniele. Aspetta. Ha la stella di un militare lì. Ecco qua. Poi c'è il segno. Aspetta. E poi facciamo vedere un'altra cosa. Guardate quanti motori ha. Tre. Tre motori. È il motore triplo. Quello. Eccolo qua. Tre motori. Bellissimo. Questa sfriccia tantissimo. Così. Poi abbiamo questa macchina. Di tanti anni fa. L'ho trovata a Santa Madonna. Alena. Ok. Allora. È finito il video. Se vi è piaciuto. Se vi è piaciuto. Potete cliccare qui. Per iscrivervi al canale. E di qui. Per non perdervi altri episodi. Con i vostri giocattoli preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Lasciate anche un pollice in su. Se vi è piaciuto. E anche un commento. Grazie. Ciao. Buồn. Buồn.